Che tipo di regione è la Val d'Aosta per lo Stato italiano? Ha uno statuto a sé, quindi come si chiama? Speciale. Uno statuto? Speciale. 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 Parla, parla come stai. Io sento dei suggerimenti. Autonomo? No, speciale. Speciale. Speciale, mi è arrivato, l'ho sentito io da qua. Ma anche questo è uno statuto speciale. Vidello Antonino per cortesia. Mi può accompagnare fuori la signora Morali? Addirittura. Ai 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 Elena, ai ai ai. Raga, io non sapevo neanche di cosa stava parlando. Questo è più probabile. Prego, si accomodi. Questo è più probabile. Ma io davvero non lo sapevo. Grazie, grazie. Vediamo se l'esame può procedere con tranquillità. Quali sono le altre regioni a statuto speciale? Allora, San Marino, che è una... C'entra assolutamente niente San Marino. Ok. Altre regioni. Io so della Val d'Aosta. Però in tutto sono diverse. Sono diverse, quindi... Te ne sono. Più li. Questa non la so. No.